Lentini e i Carabinini arrestano in fragranza due soggetti per tentato furto. I Carabinini della stazione di Lentini nel corso di un servizio di controllo del territorio hanno sorpreso un pregiudicato lentinese di 35 anni, sorvegliato speciale che in trasferta nel limitrofo comune di Carlentini stava in compagnia del figlio tentando un furto all'interno di due garage condominiali dopo aver forzato le serrature delle sale cinesche con un trapano. Il 35enne nel quale è stato sospeso il reddito di cittadinanza è stato anche deferito per la violazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza poiché è trovato in un comune diverso da quello di residenza.